Roberto Speranza, Arturo Scotto, Arcangelo Sannicandro e Francesco Laforgia del Movimento Democratico e Progressista affoggia per una serie di incontri sui temi legati al fenomeno migratorio e dei suoi riflessi sociali, economici e di ordine pubblico a partire dalla drammatica vicenda del Gran Ghetto. Speranza lo ha definito un colpo allo stomaco. Abbiamo visto lo spazio dove c'era il ghetto e insomma è un pugno nello stomaco nel senso che si vede una situazione assolutamente complicata e credo che le istituzioni a tutti i livelli debbano lavorare responsabilmente per provare a tenere insieme due obiettivi di fondo da una parte la difesa della dignità delle persone che rischia di non essere rispettata e dall'altra il tema della sicurezza dei cittadini per cui lo sforzo di ascolto che stiamo facendo in queste ore, abbiamo ascoltato il prefetto, ora in questi minuti c'è un incontro con le associazioni impegnate nel settore, serve esattamente a raggiungere questo obiettivo cioè come conciliare questi due principi di fondo, la difesa della dignità delle persone e la difesa della sicurezza dei cittadini. La giornata si è conclusa a Parco San Felice dove i parlamentari hanno affrontato anche l'attuale momento politico Speranza ha ribadito che non fa la lotta al PD ma alle destre e al populismo Io voglio ricostruire il centro-sinistra, lavoriamo per ricostruire il centro-sinistra ma per ricostruire il centro-sinistra c'è bisogno di una fortissima discontinuità sulle questioni di merito, sulle politiche e per me l'avversario sono le destre, l'avversario sono i populismi e Trump oppure la Le Pen Per me il PD non è un nemico, ma la linea del PD di questi anni ha alimentato le forze populiste e le destre e quindi noi offriamo un'altra possibilità per dire a milioni di elettori che non vogliono votare per il partito di Renzi che c'è un altro centro-sinistra possibile